Il cantiere per l'avvio dei lavori di restauro, miglioramento sismico, messa a norma e generare riqualificazione dell'ex Collegio Colombo di Viereggio, sede dell'Istituto Alberghiero Marconi, è ormai prossima all'apertura. Nella prima fase, che durerà alcune settimane, verranno eseguiti in gran parte interventi di demolizione dei tramezzi e dei pavimenti del blocco centrale, poi si procederà con la ricostruzione e consolidamento dei solai. Nella seconda fase dell'intervento, i lavori si sposteranno ai padiglioni laterali dell'ex convitto Minerva, dove si interverrà per un complessivo miglioramento antisismico dell'edificio e la sua messa a norma. L'intervento della provincia per questo primo lotto è di 1 milione e 20 mila euro, fondi provenienti sia dal MIUR che dalla Cassa di Risparmio di Lucca, ma il quadro economico complessivo per la rimessa a nuovo dell'ex Collegio arriva a 6 milioni e mezzo di euro. Nell'ambito dell'intervento di riqualificazione va inserito infatti anche il progetto per la realizzazione del moderno e funzionale edificio che accoglierà i nuovi laboratori di cucina. L'edificio, un immobile antisismico su un unico piano di circa 1.600 metri quadrati, con una grande veranda, sarà realizzato in vetro e legno con fondazioni in cemento armato.